novella nona messer giovanni della lana chiede a uno buffone che faccia un bel partito quelli ne fa uno molto nuovo a coli non piace fanne un altro e donde messer giovanni scornato si parte non so qual fosse più sparuto di persona o il genovese passato o messer giovanni della lana da reggio del quale brevemente dirò in questa novella e il quale messer giovanni non potendo stare in reggio ma stando in imola ed essendo in uno cerchio di valentri uomini non considerando alla deformità della sua persona che era piccolissimo iudice e avea una foggetta in capo foderata d'indisia che pare l'erba luccia ed era troglio vero balbo insomma disse a un uomo di corte chiamato mastro piero guercio da imola piacevole buffone suonatore di strumenti il quale era nel detto cerchio maestro piero fate che al che bel partito dinnanzi a questi valentri uomini rispose mastro piero a io il farò poi che voi volete il partito è questo qual volete voi pigliare delle due cose l'una o volete che io cachi in codestra vostra foggia o voletevi cacare voi disse il maestro giovanni quasi mezzo imbiancato io non voglio nell'uno nell'altro fatene un altro di scherzo che diletti questa brigata disse il buffone a io lo farò perché voi volete dicendo qual volete voi di scherzo messer giovanni quando avesse cacato nel vostro cappuccio e o mettervelo in capo voi oppure volete che io vel metta in capo di me per sé messer giovanni udendo questo se al primo partito era divenuto bianco a questo secondo diventò rosso e bizzarro rimanendo scordato dicendo movinasca il vermo cane che vuise in brutto rubaldo di merda così di quella vi menate per bocca che da altro non se vuoi il maestro piero con motti si difendea e dicea a voi se giudice veggiamo a ragione chi ha il torto di noi due e pigliandolo per l'olembo a ciò che non si partisse però che era già in cammino pur con quella poca di forza che avea si spiccò e andonne rampognando gli altri rimasono ridendo così a messer giovanni fu insegnato dal mastro piero una legge che giammai più non l'avea trovata così si acquista spesso con gli uomini corte che spesso si entra in motti con loro e dell'ivitu perano altrui e però non si potrebbe errare a tacere e lasciarsi dire un altro per farsi innanzi messer giovanni e non considerando a sé fu beffeggiato da questo buffone con due così nobili partiti come avete udito